Come vede il titolo di quest'anno Fiducia oltre la paura? Come titolo adatto per il contesto storico, sociale che stiamo vivendo? Sì, è l'indicazione giusta. Viviamo un periodo di tali e gravi cambiamenti che la paura è un sentimento che colpisce tutti. Ed è proprio nel momento in cui arriva la paura deve subentrare un surplus di fiducia per attraversarla, perché la paura c'è e non bisogna negarla. Anzi, chi promette di vivere senza paura è fuori dalla realtà e quindi bisogna fare i conti con la paura. Accoglie neanche magari l'aspetto positivo che è nascosto dentro, di saggezza, di prudenza. Però per fare questo, per attraversare e superare la paura c'è bisogno di questa grande forza che è la fiducia. Che forse è un dono, viene da pensare un po' come il coraggio di cui parlava Manzoni, se uno non ce l'ha non se lo può dare. Allora gli altri ci possono aiutare e la fiducia è una moneta che va scambiata. È un po' la moneta comune che unisce tutte le tipologie di relazioni umane, senza le quali le altre relazioni non possono nascere, ma come ogni moneta non è lì per essere accumulata, ma per essere spesa, per essere fatta circolare, per essere donata scambievolmente gli uni gli altri.